Ciao Stefano! E cosa butti via? Non lo so! Perché no? Certi non l'hanno fatta, ma di sicuro. Chi vince la campanella? Il raggiungimento della centina. Ovviamente, lui si andrà da lì in partita. E da quello di ritorno che si ci aspetta? Di rivivere le stesse sensazioni. Per farvi qualche domanda, potete... Vimpi o Brandello? Robitaggio? O Messi? Messi no! Non credevo fosse tutti fuori. Si se... Ciao ragazzi! Seguitemi sempre!